Bentornati a tutti in un nuovo video di Verone, oggi sono qua per presentarvi il mio primo set di un'arma per quanto riguarda Warzone 2 e andremo a vedere quella che secondo me è attualmente l'arma più forte del gioco, ovvero la K-74U che avevo già un pochino preannunciato e sarebbe stata meta e effettivamente è stra-super-mega-meta ed è, diciamo, quella via di mezzo tra mitraglietta e assalto che non è bilanciata, cioè nel senso è troppo forte per essere una mitraglietta, è più forte di una mitraglietta normale, quindi è più forte di tutte le mitragliette e è praticamente un assalto però, ed ha la mobilità appunto di una mitraglietta e quindi è stupenda come arma a livello di accessori ci ho messo solo 4 accessori su 5 e intanto per sbloccare le armi, come sapete, bisogna livellare prima il K-762 il K-545, il K-74U, quindi un bel po' di pazienza per chi ha appena sbloccato, per chi ha appena scaricato Warzone non ha MW2, non ha sbloccato tutte le armi, comunque questo è il set, ve lo faccio vedere come laser lo Shrugger, come impugnatura andiamo a utilizzare la True Tack che è calibrata in modo tale da avere più velocità di scattafuoco possibile e i punta cava che invece hanno come calibrazione il massimo in velocità proiettili poi abbiamo lo Shark Fin 90 che per le mitragliette e per gli assalti da corta distanza è, diciamo, il sottocanna sempre migliori e potete scegliere un quinto accessorio eventualmente, io lo uso già così, mi va benissimo in questa maniera potete scegliere magari se aumentare i colpi con 45 però è entrata in mira un pochino più lenta oppure andare magari su una volata, ad esempio un silenziatore tra i silenziatori vi posso consigliare l'Ecoline GSX, è quello che dà meno difetti in assoluto anzi aumenta anche la fluidità di rincuro ed è una statistica molto molto comoda sulle armi bacione da Verone, guardatevi il gameplay, spero che il gioco vi stia piacendo un bacione, lasciate un like e un commento per supportare le serie delle armi per sempre nuovi video un bacione, ciao a tutti a me fa impazzire onestamente è lento, è macchinoso però se ci prendi confidenza è tanta roba secondo me sì sì ma infatti mi sparano dall'alto no no mi ha nominato, occhio occhio prende la zip c'è me lato oh mira col cecchino tra me sparano sono da voi mi butto un bombing oh ma era accanto a me qua un altro da me ho buttato un bombing io l'ho fatta una via io l'ho fatta un altro, ce l'ho l'altro sotto di me mi ha pagato Verone l'ho pullato pullato ma è esploso subito I'm coming for you we are coming brothers you ordered Uber, Uber is here casetta, 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 casetta casetta, casetta destra, destra Kong crackato uno Kong dovrebbe essere sotto di noi a sinistra a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra crack l'ho fatto uno l'ho fatto uno sinistra pure l'ho fatto uno cazzo è brother come here, don't hide from me guarda me, guarda me, guarda me da calo, da calo, da calo ferra fatto ti resto io calo, aspetta mi piace caro l'ho mai visto, è un BL a me piace un sacco è ovviamente molto diverso rispetto a quello che eravamo abituati è tanto diverso però secondo me è molto figo tornei, cose del genere qua c'è un po' più skillato rispetto a cioè un po' più skillato a livello di testa a livello di gunplay ovviamente c'è meno skill gap però è anche il gunplay non è male e per il resto sono me figo a me piace non so guidare, non ho la patente looting da migliorare le cose da migliorare sono l'audio e il looting looting è veramente lungo e comunque è a me piace a me piace non mi dispiace per niente senza paura poi il gioco in realtà è fatto molto bene però si vede che è una mezza beta eh si ragazzi eh si come è possibile bro come è possibile I want it no zio no zio ma cosa si è fatto? c'è un altro fermato da me? dai uno di vita trombata mi son fatto dare come un imbecille dobbiamo farci l'oddy? c'è bravo? non si può comprare amica no ma c'è 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 ancora qualcuno fuori 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 preso preso altra gente altra gente front su M4 please gioco di merda dai bello prendo il lodi venite venite il cecchino è troppo bello da usare c'è uno all kong davanti a noi davanti a noi in finestra va dentro aspetta ok un altro qua un altro qua ancora piaggio a terra uno lo bombardo ah raga full team dentro casa forse sono due due team due team lì due team due team tu hai noccato l'altro casa sinistra? sì vado entra te entra te sopra teoricamente calo ho fatto un altro sopra la pistola la pistola front 2 M3 3 3 3 3 ho fatto uno altri due front uno top uno top uno top vicino la casa vicino la casa ha fatto un altro top ce n'era un altro l'ho fatto io arrivo fatto bravo bravo andiamo 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 la burgs oddio raga no way 3 harder minchia zi un high harder questa questo c'ha un bot di earnings sembra veramente fatto tutto il trombato questo caldero era fortissimo oh qua ti prendete danno eh occhio c'è il filo spinata vi leva tutte le piastre mancano le ore a zero piastre oh sento gente eh toxico umano dov'è bravo se ve li fate raga ok fatto fatto lutateli eh sempre raga anche questo aveva una terrestre in più qua c'è un botto di soldi lutateli sempre ragazzi occhio uno rientra hanno rossato uno è rossato davanti rientra qua rientra qua safe si devono venire verso di noi mi sa qualcuno eh dobbiamo oldarli teoricamente dietro se c'è gente io mi confondo troppo per il loot te lo giro eh un po' lungo devi metterti un attimo lì con calma un secondo però teni il dubbio apili intanto ti mette la roba dentro roba automatica te la fila si i soldi forse pure i colpi può essere i colpi quelli lì che hai già però può vedere questa safe zula quanto è bella poi ora si chiude fra che bello è adesso triple fight pam 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 hanno rossato anche dietro eh a sinistra abbiamo già altre gente fatti uno sui un altro qua non so se ci sono altre gente ha girato a sinistra ha fatto hanno fatto il resto giù in fondo è sotto a questo qua non entrano i colpi non entrano i colpi un altro davanti ah ce la si ce la si fatti in te via fatti un altro arriva quello penso sia dead onestamente gente scappa così adesso c'è gente occhio eh sarà sul ponte guarda questo ratto zio da dove cazzo è andato questo preso preso nice gente fronte a noi sicuramente qua verso il benzinaio casa casa finita costo costo Mi ha cecchino Adesso Kong Se riesco Ho trovato Kong Il cecchino Il cecchino è troppo più Che cecchino stai usando? Qua c'è gente? Non lo so, è trovato a terra Ho smirato un po' troppo Vedo se c'è qualcuno dietro ancora Qua? Guarda Ah guarda la sinistra Guarda qua, guarda qua Guarda qua, brello Fatto? Sì, resta Ve lo chiudete questo? Un altro crack che gira dalla safe Staccato Quanto smiro ragazzi Devo cambiarlo Da noi, da noi, da noi Dove, dove, dove? Dentro casa, dentro casa Sì? Visto? È sopra Sopra calo Com'è, com'è, com'è One shot, one shot Vai, vai, vai Colpo quando volete Lo so a destra, Kong Lo so a destra, l'avevo messo a terra uno Oddio, oddio Ah, fuck No, no, c'è uno E gli altri due sono one shot Proprio di fronte a me Un metro da me Ma che l'ho visto? Stunno? Stunnato? Visto uno? No, ultimo L'ultimo No No, uno one Una terra E l'altro scappa Ho fatto i due Nice L'ultimo, l'ultimo Qua l'altro, fatto? Prima a sinistra, arriva da sotto Sinistra agli altri qua Lo ti so Uno sotto, collo a destra Uno sotto, collo a destra Fatto uno Adesso mi guardo a destra Destro, destra L'ultimo dovrebbe essere Nice Nice GG Vamo raga Forza giù Vesù 50 bombe, eh raga Totali 50 50 di team Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Cazzo Vamo Grazie.